Siccome la prima cosa che abbiamo un po' esaminato nel nostro precedente incontro è stato il mistero, credo che sia proprio nel mistero che bisogna collocare il male. Qui c'è un grande problema, noi stiamo parlando a poche centinaia di metri dal carcere di Bologna e il carcere è un po' il simbolo di una certa concezione del male. Il male c'è perché c'è un colpevole e quindi se c'è qualcosa di male vuol dire che c'è qualcuno che ha fatto qualcosa di male e anche l'esperienza che ho della vicinanza con persone malate vedo che istintivamente si cercherebbe sempre un colpevole che può essere il vizio di una persona, una violenza che ha subito, l'aria che respiriamo, ma c'è un affannoso bisogno di collegare il male a un colpevole. In qualche modo invece questa tradizione sapienziale di cui stiamo cercando di dire qualche cosa evita questo e in modo molto più concreto, diciamo così esistenziale, guardando il male come si colloca nella vita sia delle persone che delle stirpi, delle culture, dei pensieri, appunto preferisce considerarlo un mistero negativo, cioè come abbiamo visto i limiti della persona, per esempio appunto quel grande, secondo me meraviglioso limite che è l'insufficienza che ognuno di noi ha con se stesso se non è in relazione e in comunione con qualcun altro e così in certo modo bisogna dire del male e cioè il male è una cattiva compagnia ed è un dominio negativo e il male come tale è più potente dell'uomo. L'uomo non può pensare e pretendere di controllare il male, ne controlla certamente molte conseguenze e quindi ha dei dispositivi importantissimi nei confronti del male, a partire dall'educazione, dalla scuola e poi da tutto quello che il progresso sia scientifico che morale e spirituale può fare da argine al mistero del male. Ma quando lo considera nel suo esplicitarsi nella vita e nell'esperienza delle persone deve essere ricordato come una potenza più forte che l'uomo non può pensare di poter controllare in tutte le sue dimensioni, se non altro è chiaro che c'è un male davanti all'uomo che è la morte che di fatto è inevitabile. Ora questo è molto molto interessante perché sciogliendo il rapporto tremendo, soffocante tra male e colpa si apre un'altra prospettiva e cioè che il male è considerato una prigionia o una malattia. Ora se tu sei malato sarebbe assurdo che per esempio questa mattina all'ospedale Sant'Orsola il primario di oncologia riunisse tutti i malati di cancro e incominciasse con dare loro una gran sgridata perché sono malati. Loro sarebbero stupiti e scandalizzati e gli direbbero ma noi siamo qui per essere curati, non per essere sgridati. Ecco per questa tradizione sapienziale il male globalmente è così, è una prigionia ed è una malattia e quindi il vero problema, la vera scommessa è quello di curare la malattia e liberare dalla prigionia. È per questo che la parola liberazione sta al cuore di questa tradizione sapienziale perché la vita nella sua positività può iniziare se c'è una liberazione. La cosa è talmente forte che per la tradizione dei maestri ebrei persino la nascita è una liberazione perché vieni liberato dal fatto che non c'eri e finalmente ci sei, finalmente emergi alla vita e quindi questo tema della liberazione accompagna tutta l'esistenza. Nella mia piccola scuolina media eretica la disciplina con i miei scolari io la tengo ancora su questo tema della liberazione e se c'è per esempio un problema di disciplina nei confronti di un insegnante io cerco di affrontare con la classe l'argomento disciplina dicendo ma come mai non funzionano bene le cose? Non vi rendete conto che questa persona si china su di voi per liberarvi, per liberarvi dal fatto che non sapete, che non conoscete, che non avete esperienza? Si piega su di voi e comunicandovi tutta la ricchezza della sua esperienza, della sua cultura, anche della sua passione culturale ti strappa via dalla tua ignoranza e ti apre la via della conoscenza, una cosa che ieri non conoscevi oggi la conosci, sei stato liberato da un ignorare e da un'ignoranza che oggi ti fa più grande, più libero, più nella possibilità di contattare le persone, le culture, i paesi, la storia e la geografia. Ecco quindi tutta la vita è un po' da concepirsi come una grande liberazione di cui però appunto proprio per stare alla parola è necessario l'intervento di un altro e come quindi parlavamo di questo altro come verità di me stesso perché mi fa essere veramente quello che sono perché da solo non sono così però è di questa potenza di liberazione perché senza questa potenza che mi libera io sono prigioniero, di un mistero negativo evidentemente. Ecco perché allora la parola liberazione va associata alla parola salvezza. Noi lo usiamo, questo verbo salvare, in forma scorretta nella grammatica italiana perché lo usiamo spesso in forma riflessiva, stavo annegando ma mi sono salvato, ero disperato ma mi sono messo di forza e ho reagito, ma il verbo salvare non può essere usato in forma riflessiva perché o informativa perché c'è qualcuno potente che mi salva, è vero? Oppure in forma passiva appunto perché sono stato salvato, sono salvato, dunque implica la cognizione e la certezza di una situazione di impossibilità da parte mia nella quale interviene un più forte di questa mia prigione che mi tiene chiuso e mi tira fuori. Perché questo è molto importante? Perché in realtà invece questa concezione del rapporto tra colpa tra male e colpa e quindi tra colpa e pena di fatto genera delle crudeltà indicibili, perché in realtà non tiene conto invece di questa nostra fondamentale debolezza davanti al mistero del male. Qui bisogna per un momento parlare bene di una giurisprudenza nel senso che fin dalla tradizione del diritto romano c'è stata questa percezione della necessità però di intervenire a fianco diciamo del colpevole del male per trovare in qualche modo delle ragioni attenuanti di quello che è male ed è la figura dell'avvocato. L'avvocato che cosa fa? Tiene in qualche modo per il colpevole mettendo in evidenza che il male che è venuto da lui o che lui ha compiuto però ha delle spiegazioni quindi delle attenuanti di cui bisogna tener conto e questa bisogna dire è una grande tradizione. Tutto questo invece è assoluto nella concezione che io propongo nel senso che di fatto essendo il colpevole vittima del male che lo domina in certo senso non bisogna essere troppo audace a sto mondo potrebbe collegare la condizione del peccatore del malfattore addirittura con l'innocenza. Tu non sei colpevole ma sei vittima di un male che ti domina e che quindi poi ti fa agire. La giustizia umana quindi tende ad essere una giustizia vendicativa tant'è che siccome tu hai fatto del male adesso devi subire del male e più male hai fatto più male devi subire e quindi è una giustizia che reagisce col male al male. Quella che invece emerge dalla tradizione ebraica e che ha una sua pienezza in questo giovane rabbino di Galilea che è Gesù di Nazareth è che questa giustizia viene chiamata giustizia salvifica nel senso che io per far giustizia ti strappo dalla tua condizione e ti immetto in una strada nuova di giustizia. Si avvicina molto anche alla parola educazione che è parola dal latino che in qualche modo dice ti conduco fuori ti conduco fuori quindi davanti al male se e quando è possibile la vera strada è quella di una terapia e di una terapia positiva è vero e quindi in realtà il malfattore non può non essere guardato se non con una rattristata comprensione perché io sono in qualche modo moralmente portato e oserei dire costretto a considerare la tristezza della sua condizione prigioniera e qui c'è tutto questo discorso che è divenuto molto di moda diciamo anche della nostra cultura moderna che è tutto il tema della dipendenza